La rubrica Underground I La Fox è una band nata nel 2010, un gruppo di amici accomunati per la passione per la musica. Si definiscono un laboratorio musicale con il gusto della sperimentazione. Una band di sei elementi con contaminazioni musicali diverse, ognuno ha i suoi gusti, cosa viene fuori? Viene fuori l'Indifferente che è il nostro primo CD in cui abbiamo fatto confluire i generi musicali che ognuno adora ascoltare, quindi partendo da Pink Floyd, Nirvana, musica heavy metal, pop, anche elettronica, in un risultato che a noi ha soddisfatto parecchio e speriamo anche al pubblico. C'è un elemento comune? L'elemento è comune, è una fortissima passione per la musica, non con un fine professionale, ma con una passione che ognuno di noi ha con storicità diverse, ma comunque molto sentita. Come vi siete trovati, come vi siete conosciuti e come vi siete messi insieme come band? Tramite classici giri di amicizia, ognuno poi raccontava le proprie passioni, avevano deciso di fare una piccola band di cover come si inizia in questi casi, poi ovviamente si è sentita la necessità di scrivere qualcosa di originale e gradualmente si sono avvicendati diversi gruppi, diversi membri all'interno del gruppo e sono nati via Fox. Cosa cercate di esprimere con la vostra musica? Ma niente di particolare, la cosa che più ci interessa è la quotidianità, c'è tutto quello che ognuno di noi vive e poi viene trasformato in musica durante le nostre prove e poi durante i concerti viene fatto sentire il resto del mondo, tra virgolette. Grazie a tutti.